E' cominciato il periodo dell'anno in cui i botti, petardi e mortaretti scoppiano in tutta Italia e raggiungeranno il culmine nella notte di San Silvestro. Alcuni consigli pratici della Lega Nazionale per la Difesa del Cane per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici pubblici e privati nei quali si è previsto l'uso dei botti. Come negli anni passati, anche quest'anno, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Animal Protection, ha invitato tramite le proprie sedi diffuse su tutto il territorio nazionale i sindaci dei comuni d'Italia a mettere ordinanze che proibiscano l'uso dei botti e dei petardi in modo da evitare tanti incidenti, anche mortali. Questa usanza infatti è tanto pericolosa per l'incolumità degli animali quanto per quella delle persone, come testimoniano peraltro i notiziari ogni primo di gennaio. Molti comuni si sono adeguati e prevedono il divieto di scoppiare i botti, afferma Piera Rosati, la presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Molti altri però non provvedono, in alcuni casi adducendo la motivazione che è un divieto difficile da far rispettare. Questo è sicuramente vero, ma lo stesso vale per qualunque altra infrazione. La legge, ad esempio, vieta di rubare, ma i ladri esistono ugualmente. Un'ordinanza contro i botti potrebbe comunque rappresentare un deterrente e iniziare ad educare la cittadinanza a festeggiare in maniera più rispettosa. La notte di San Silvestro rappresenta sempre un momento di estrema difficoltà per gli animali, spesso spaventati a morte dai botti per via della loro soglia uditiva, infinitamente più sviluppata e sensibile di quella umana. Mentre noi siamo intenti a festeggiare gli animali, domestici e non vivono un incubo che per loro sembra durare un'eternità. Lo scoppio dei botti crea negli animali una vera e propria condizione di panico che li porta a perdere l'orientamento e li espone al rischio di smarrimento o di essere investiti dalle automobili. Sono numerosissime le segnalazioni di cani e gatti smarriti dopo la notte di Capodanno e spesso, soprattutto al centro-sud, i cani poi finiscono in canile a causa dell'assenza di microchip. Senza contare i cani e gatti investiti dalle automobili, oltre purtroppo agli animali selvatici di ogni specie morti in seguito alla fuga dovuta al terrore scatenato dalle esplosioni. Ci sono però alcuni accorgimenti, alcune precauzioni che i proprietari di animali domestici dovrebbero prendere affinché il Capodanno, anziché una festa, non diventi un evento angosciante per i loro amici e compagni. Non lasciate i vostri quattro zampe da soli ad affrontare le loro paure e soprattutto evitate di lasciarli all'aperto. È importante custodirli in luoghi tranquilli e protetti, nei casi di animali anziani, cardiopatici e particolarmente sensibili allo stress dei rumori, rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia. Un'altra regola fondamentale, ma che vale in realtà tutto l'anno, è di dotarli di tutti gli elementi identificativi possibili, oltre al microchip medaglietta con un recapito e se l'animale malauguratamente scompare, presentare subito una denuncia di smarrimento alla polizia municipale o all'ASL. Cosa fare con un cane che resta solo a casa? Semplice, lasciare le luci accese, le porte aperte. Il suo giaciglio deve essere ben raggiungibile, non lasciare oggetti che lo possano ferire, inibire nascondigli troppo angusti per evitare che si ferisca per entrarci. E ricordiamoci sempre che la parola d'ordine è difendere e proteggere i nostri animali.